Non sono prove decisioni. No, tutt'altro. Come si dice, Icman e Bimus Optima, stiamo bene dove stiamo. Questo è il partito che abbiamo voluto in tanti, con passione. È un partito a cui vogliamo bene e vorrei anche dirlo al Presidente del Consiglio. Quando un pezzo di una comunità politica come un partito esprime delle critiche, delle riserve o avanza delle proposte diverse, non è perché vuole male al Paese, è tantomeno perché vuole male al suo partito. Vogliamo bene al Paese, vogliamo bene al PD e vogliamo il bene di questo governo, però crediamo che sia un bene anche discutere.